Sconfitta a testa altissima per probabilmente la migliore vis di questa stagione, gara tonica contro la capolista alla Canestro Salerno, che gara hai vissuto al campo? Buonasera Domenico. Buonasera a tutti, non a caso è stata una delle nostre migliori partite perché il nostro è un percorso iniziato più o meno tre mesi fa di una scuola di ragazzi giovani e quindi col tempo, avendo anche molta pazienza, piano piano stiamo riuscendo a quadrarci come squadra e nonostante la sconfitta stiamo iniziando a prenderci le nostre piccole soddisfazioni sicuramente. La classifica non sorride, c'è quest'ultimo posto da dove dovete fuggire, però adesso ogni occasione diventerà una finalissima da qui fino alla fine. Sicuramente, sicuramente, adesso giocheremo la prossima settimana contro la Mezzia fuori casa, che è un'altra squadra di alto livello e poi avremo due turni infrasettimanali in fila, quindi sarà sicuramente importante arrivare pronti mentalmente e fisicamente per affrontare al meglio queste partite perché siamo molto indietro in classifica e ogni partita, come detto tu, sarà una finale, quindi è bene non perdere troppi punti per strada. Finalmente possiamo iniziare a fare i paragoni con l'altro girone rispetto a Forio e Benevento, come hai visto Salerno? Salerno è sicuramente un'ottima squadra, i due gironi credo siano abbastanza livellati, ovviamente parlo per le squadre di alta classifica come possono essere Benevento e Ischia che abbiamo affrontato e oggi Salerno, però sicuramente un buon livello.